Gli elettorati dei vari partiti sono diversi, l'elettorato del PD nonostante che ne abbia digerite e subite di tutti i colori è piuttosto esigente, l'elettorato dei 5 Stelle come dimostrano i tormenti che hanno accompagnato l'adesione secondo me troppo acritica a questo governo del loro movimento sono molto esigenti, gli elettori della Lega come gli elettori di Forza Italia sono abituati a qualsiasi cosa, cioè quello è un partito che soprattutto da quando c'è Salvini si fonda su due basi, una sono le cazzate e l'altra sono gli affari, in questo governo agli affari si sta occupando Giorgetti dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è l'unico ministro politico che mette le mani sul recovery fund, gli altri sono tutti tecnici insieme a Draghi. Dall'altra parte le cazzate vanno e vengono, nel senso che il giorno prima di entrare nel governo Draghi Salvini diceva che bisognava aprire tutto, anche le piste da scia, qualsiasi cosa, bisognava aprire tutto. Il decreto ristori era in ritardo il 21 gennaio quando fu deciso che 32 miliardi venivano scostati dal bilancio in deficit per dare i ristori delle chiusure di dicembre, lui disse che erano già in ritardo, è passato un mese e mezzo, te l'hai visto il decreto ristori? Io non l'ho visto, eppure sta zitto, sta zitto come sulle chiusure e si accontenta dello scalpo di Arcuri che molto gentilmente Draghi gli ha regalato e come diceva ieri sera Bersani vedremo fra sei mesi se il generale Figliuolo sarà riuscito a fare meglio di Arcuri. Io ne dubito perché, viste le difficoltà che ha affrontato e i risultati che ha ottenuto, ci avrei pensato non una ma due volte prima di liberarmene. A vantaggio di un esperto di logistica, mentre Arcuri notoriamente si occupava di acquisti. Ma in ogni caso Salvini è in grado di far digerire ai suoi elettori qualsiasi cosa, purché abbia un piede nel governo e garantisca quei cosiddetti ceti produttivi del nord che tutto volevano tranne che le elezioni, ma soprattutto tranne che l'opposizione. E infatti non gli avevano perdonato il papete proprio per quella ragione, perché pensano che sia comunque meglio stare dentro il governo che stare fuori. Quindi chi sta meglio della Lega? Chi sta meglio di Forza Italia che sembrava morta e adesso addirittura può esibire la Gelmini, dicesi Gelmini a sponsorizzare i DPCM che fino al giorno prima erano gravi focolai di dittatura e di autoritarismo? Chi sta meglio della Meloni che occupa in esclusiva lo spazio dell'opposizione? Pronta a portare sia i consensi sia i dissensi al governo Draghi nel momento in cui si andrà a votare? Quindi il centro-destra è in un ventre di vacca in questo momento, colpisce disunito per arrivare poi unito e mettere insieme tutti i consensi. E' l'altro campo che è un'armata brancaleone in disarmo. I 5 Stelle stanno provando ad approfittare di questo periodo di sospensione per darsi appunto la linea Conte e trovano nel PD ovviamente una prateria in questo momento. E quindi il problema più grosso in questo momento ha ragione Gacciari, c'era il PD. Grazie a tutti.